buongiorno amiche buona domenica a tutte allora oggi mio compagno sta preparando una pasta al salmone panna abbiamo messo giù già 200 grammi di pennette qui come potete vedere è la pelle che mi compagna ha tolto dal salmone fresco e ora qui l'ha messo nella padella con l'ha fatto a cubetti prima lavato tagliato a listarelle po cubetti e l'ha messo in padella con olio sale e pepe l'ha fatto cuocere e ho raggiunto la panna ha messo un pochino di latte ha messo il latte si può fare un po più lento facciamo sciogliere quando la pasta aveva aggiunto la cottura al dente sarà trasferita qui nella padella per amalgamare il tutto ok ci vediamo quando la pasta è in padella questa si 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 okay a dopo allora la pasta l'abbiamo tolta al dente. Ora si sta scolando e la passiamo nella padella dove c'è il salmone e panna. La facciamo saltare per qualche minuto. Abbiamo messo 200 grammi di pasta per due persone. L'acqua non l'ho buttata che si serve qui ad allungare, eh? Forse, prezzi. Tieni l'acqua là, la pentola lì, che sicuramente ti serve, perché la passi ancora al dente, facciate di allungarla. Allunga, allunga con acqua, mescola. Piantele al dente facciate di finire la cosa, metti, 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 basta adesso, basta. Non c'è più. Le piccoline che non si vedono. No, se le penette. Vai. Alza la fiamma. Grazie. la fine di cocere e asciugare l'acqua che abbiamo messo per liberare un po' tutto ma non metterò acqua no non metterò acqua dice che c'era qualche pennezza ancora allora qui siamo giunti alla cottura ora facciamo fare un saltino ecco qua in modo che si ritira per bene l'acqua di cottura della pasta ecco non posso credere saltate la pasta, non sbattere la pasta dai, impiattala eh già ok io sai quanta eh lo sai io quanta non ho caricato dai dai ecco qua faccio questo vuoi piatti? si ti faccio vedere vediamo un po' questo impiattamento come l'hai fatto eh va bene dai ok ok belli fumanti guarda sì perfetto pennette a salmone fan saluto buon capo l'ho preso alla sprovvista basta salute i tuoi fan saluti a tutti sì ok amiche bene allora anche per oggi è tutto andiamo a pranzare e auguro anche a voi e un buon pranzo una buona domenica ciao